a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio nuovissimo video oggi vi farò un video insieme a Giulia la mia telecameraista quella dietro ciao e io che Matteo che lei è uno youtuber iscrivetevi al suo canale si io e Matteo siamo Giulia con la G maiuscola e la E strana e la M maiuscola e Matteo oggi ragazzi vi porterò a fare un giro insieme ai miei amici in bici iniziamo se vuoi film a Giulia così dal lato ti prendi a questo punto se non dobbiamo fare niente per esempio che ci mettiamo tanto bloccalo 3 2 1 via guarda che poi puoi unirlo puoi unirlo anche con i shot dai vieni nanna di qua sennò dopo non è mi raccomando iscrivetevi nel suo canale dai guarda ogni volta riscontatevi e ovviamente è mio però a lui di più dovete iscrivervi scolliciate i like mettete i like per il video che ho fatto insieme ai miei amici visto che non ve l'ho fatto ancora vedere e spero che commentate che sia bello il video forse domani uscirà un video del carro armato che andremo là in una casa abbandonata ragazzi mi raccomando ragazzi mi raccomando state aggiornati è vicino alla banca se diciamo che esce eh no 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 non attraversare non attraversare pausa è bloccato ragazzi siamo quasi arrivati a casa mia sono quelle lì in fondo le vedete? quelle rosse e bianche non c'è da rosse i pannelli solari non c'è da rosse i pannelli solari non c'è da rosse moltissimo domani il mio amico Matteo vi porterà a riportare un video se si iscrivetevi al suo canale vi porterà il video del carro armato e non c'è da tutto con me domani esco forse forse domani andremo a vedere il video del carro armato e saliremo sopra te sali nonna no io no ok se vuoi porto il tuo telefono su così ti faccio vedere al tuo iscrittivo saliremo anche sul mitragliatore ragazzi questo qui è preso a via qua dove davide se è fatto male mi inizia si nonna è arrivata a casa ora è finito il video di oggi ci termina qui spero che vi sia piaciuto ciao a tutti ragazzi ciao ciao termina stoppa aspetta 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 aspetta